Siamo nella quinta domenica dove si continua questo dono della Quarisma dell'anno A che ci dà i testi fondamentali e siamo nel momento in cui mentre i catecumeni o meglio gli eletti celebrano il terzo scudino battesimale dove si celebra la fede nella resurrezione ecco abbiamo il testo della resurrezione di Lazzaro noi abbiamo infatti nella prima lettura un testo del profeta Ezechiele che annuncia questa opera ecco io apro i vostri sepolcri vi faccio uscire dalle vostre tombi o popolo mio che vuol dire se noi pensiamo all'aspetto della più nera delle nostre ipotesi della più triste delle nostre condizioni che è la condizione fondamentale qui siamo con i testi che hanno a che fare con le cose basali della nostra vita qui siamo a fronte delle cose più irrisolvibili della nostra sfida di persone ecco certamente la realtà della della morte viene fotografata attraverso questa realtà il sepolcro questa pietra che viene chiusa sull'ultimo capitolo dell'esistenza ora che cosa dice qualcosa di pazzesco aprire la tomba noi come possiamo comprendere una cosa così peculiare è chiaro il signore gesù risusciterà dai morti di lì a poco perché ascolteremo il vangelo di giovanni nel capitolo undicesimo pensare che dal capitolo 13 comincia il racconto dell'ultima cena e siamo poi dentro dentro la realtà della passione morte e resurrezione di nostro signore qual è il nocciolo del discorso che tutta questa è un'esperienza che è collegata certamente alla realtà ultima anzi ha il suo fulcro nel fatto che noi andiamo verso la vita non verso il nulla noi andiamo verso qualche cosa che è oltre la tomba ma c'è un'esperienza da fare se il profeta zeghiele riporta questa parola di dio vi faccio uscire dalle vostre tombe o popolo mio e vi riconduco nella terra di israele vuol dire che stiamo parlando di una realtà bene o male simbolica immanente cioè qui su questa terra noi crediamo di poter aprire il nostro animo il nostro spirito alla vita che va oltre la tomba perché già su questa terra facciamo esperienza della potenza di dio su tanti sepolcri su tante gabbie su tanti carceri in cui noi possiamo infilarci trovarci l'uomo ha la capacità di crearsi tante gabbie l'uomo si infila nel suo proprio sepolcro un po tutte le persone presto o tardi prendono contatto più o meno consapevolmente col fatto di essere come ingabbiati dentro qualcosa dentro ricordi dentro dolori dentro recriminazioni dentro peccati dentro vizi dentro incapacità ad andare oltre ci si ferma e si è vivi ma in realtà si è necrotizzati nel profondo dell'essere ecco come si fa questa esperienza che è l'esperienza che vediamo in lazaro come un una luce che illumina i nostri sepolcri di oggi tutte le cose in cui siamo incapsulati incistati dentro cose che non sappiamo risolvere ecco gesù in questo vangelo va per gradi comincia con il fatto che non arriva da lazaro quando lazaro lo manda a chiamare o meglio quando le sorelle lo mandano a chiamare è curioso certe volte dio permette che noi arriviamo al fondo sì perché quello che cristo porta non è un palliativo è una liberazione autentica non è un aggiustare per il momento la tensione delle cose essere illuminati radicalmente da quello che succede molto spesso sembra che dio sia così come pigro che non parte gesù in questo vangelo a parte appare come uno che chiamato non si muove a una strana strategia a lui perché lui non vuole risolvere il problema piccolo vuole risolvere il problema grande quello radicale allora che succede succede che ormai lazaro arriva fino alla sua morte arriva fino alla sua nullificazione ed ecco finalmente gesù parte parte quando è sicuro che noi uomini non possiamo fare più niente perché tanto finché pensiamo noi di poterci organizzare come più o meno ci venda dalle nostre forze ci mettiamo lì facciamo un po di più allora ancora ancora dio sta sta così è uno spettatore ci guarda finché non siamo convinti che su una cosa non abbiamo più potere non sappiamo più come risolverla noi in realtà non ci rivolgiamo veramente a dio ma stiamo lì che speriamo di trovare anche in lui qualche cosa che ci aiuti allora lui arriva quando è chiaro che se succede qualcosa lo ha fatto lui e questa è tutta la realtà delle nostre povertà dei nostri limiti lì dove noi scopriamo che non possiamo decidere oggi risolvo questo oggi faccio un passo in avanti no io sto fermo non so più come fare è lì che inizia a dialogare con la sorella del morto con marta che è un po un po parte di lazaro è come se questi tre personaggi marta maria e lazaro fossero un po un personaggio solo marta infatti è un po la razionalità è l'operativa è quella che come compare anche in altri vangeli quella che trova come dire trova giusto dialogare con lei che inizia a ragionare ma può essere che dio non possa fare niente con me ma può essere che sia qui nella mia vita il mio signore e non mi possa salvare il signore inizia a entrare per quella apertura comparirà poi maria e maria piange maria non ha a dialogare non dialogherà con cristo maria è schiantata dal dolore ed è molto importante il dolore serve tantissimo il dolore è uno strumento di dialogo con dio unico nel nostro dolore noi siamo autentici nel nostro dolore finalmente le nostre lacrime non siamo la nostra maschera siamo il nostro cuore ed è importante arrivare lì al cuore ed è interessante come il dolore il pianto di maria è contagioso sì perché i sentimenti sono fatti così si contagiano fra le persone e allora il dolore di maria diventa il dolore di gesù che però lo eleva e c'è qualche cosa tante volte piangere con il signore i propri dolori è qualcosa che lenisce scioglie sblocca qualcosa di profondo quindi rientrerà in ballo marta e marta capirà finalmente istruita dal dalle lacrime di maria capirà che si deve fidare fino in fondo capirà che possiamo prendere contatto con il fratello che ormai manda cattivo odore perché quello che sarà straordinario è che gesù non ha paura di affrontare il cattivo odore di lazzaro farà togliere la pietra ed è lì in questo contatto fra gesù e la parte malata la parte morta necrotizzata putrefatta dell'essere umano è lì che l'uomo riceve la vita nuova se il profondo del nostro cuore viene finalmente visitato dalla tenerezza di dio e in fondo c'è un problema con questa frase lazzaro vieni fuori è come se dicesse sono delle affermazioni avverbiali un pochino difficili da spiegare quella frase lazzaro qui da me subito vieni qui da me ecco volgersi verso il signore capire che il posto del proprio cuore non è dissolversi farsi ammazzare dalla propria la propria disperazione ma volgersi verso il signore è lì che il signore entra è lì che compare una luce nuova è lì che si riprende a vivere e la vita si vive in forza del fatto di essere stati finalmente capiti nel proprio dolore finalmente capiti nella propria povertà grazie a tutti